Tiziano Ferro è diventato papà? La foto sui social di cantautore posta uno scatto che lo ritrae con un bambino in braccio I fan sperano che il suo di paternità si sia realizzato ma il management smentisce che si tratti di suo figlio La meraviglia assoluta Una didascalia semplice, breve ma efficace per descrivere la gioia più grande, il miracolo di una vita che viene al mondo Tiziano Ferro su Instagram tiene in braccio un bebè, le sue dita tra quelle minuscole della creatura che lo stringe come segno di un legame appena iniziato e che, si presume, durerà per tutta la vita I fan in delirio si congratulano con lui ma il management del cantautore, raggiunto da Radio Italia e solo musica italiana, ha smentito che il neonato sia figlio della pop star Leggi, Tiziano Ferro, i social network mi terrorizzano, Tiziano Ferro in America per diventare papà Eppure la paternità è da tempo nei progetti di Tiziano, trasferitosi a Los Angeles anche per questo motivo come aveva confessato a Vanity per a fine 2016 in occasione dell'uscita Del disco il mestiere della vita, un da realizzare anche qualora fosse single, sconosciuti al momento, il nome e soprattutto l'identità dei genitori del piccolo, ma giudicare dagli occhi pieni di gioia di Tiziano deve trattarsi di persone a lui vicine